ciao ciao amici sono il carletto e come sempre questo il mio canale dove vado a recensire statue doll action figure cavaliere dello zodiaco robò tutto quello che è il mondo del collezionismo che io adoro allora oggi andiamo a recensire un doraemon che non è questo qua della linea robo spirit che vedremo più avanti insieme a nobita in plastica in pvc ma andremo a recensire ragazzi questo qua che è un proprio e vero shogokin cioè praticamente tutto in vie cast è un doraemon eccezionale e voglio partire subito con lui dal botto dal top e fare un paragone con quello in pvc come dimensioni come peso come tutto insomma questo qua è veramente eccezionale veramente bello e quindi direi unboxiamo questo qua che lo shogokin proprio di doraemon un sacco di accessori tutto in metallo lo ricordo e lo paragoniamo poi a quello la della robo spirit ma dopo faremo la recensione anche di loro comunque due fasce di prezzo completamente diverse perché qua siamo oltre i 100 euro comunque sui 100 euro qua siamo sui 40 euro per questo doraemon quindi ovviamente sono due prodotti completamente di qualità differente andiamo unboxare allora lo shogokin di doraemon questa versione qua che è veramente eccezionale ragazzi il packaging sembra praticamente molto similare a quello anche degli yellow kitty vedete al suo box esterno a quest'altro box poi che contiene lo shogokin andiamo a vedere bene guardate veramente molto più grande non immaginavo guardate rispetto all'altro della linea del robo spirit sempre di casa bandai è molto più grande tutto indie cast molto più curato molto più bello ragazzi poi con un sacco di cosine che vedremo nel dettaglio e vi dico già che ha delle particolarità incredibili infatti il libretto che qua ve lo voglio far vedere nel dettaglio perché ha delle cose che dovete vedere assolutamente passiamo subito allora vedere tutto quanto bene bene da vicino e vi spiego tutto quanto vediamo subito bene bene il libretto perché ha qualcosa dell'incredibile va guardate allora qua è quello che troviamo all'interno della confezione poi guardiamo qua mi pare di capire perché lo sto aprendo per la prima volta insieme a voi oggi ragazzi pare di capire che schiacciando andando a fare leva sul braccio cambiano le espressioni vedete degli occhi cioè muove gli occhi verso in questo caso destra nel lato dove andiamo ad abbassare il braccio poi penso che abbia anche tutti questi altri occhi intercambiabili ma adesso andiamo a vederlo bene con il dettaglio bene 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 poi guardate qua se andiamo applicarli l'elica sulla testa schiacciando il braccetto gira l'elica cosa che non trovavamo nel robo spirit che completamente in plastica con tutto già diciamo fisso ma non ha tutte queste cose qua poi abbiamo questa rotella come possiamo vedere dove andiamo applicare tutti gli oggetti che tira fuori dal tascone la si va a inserire nel doraemon e schiacciando di la coda mi sembrerebbe di capire che ruotano gli oggetti che vogliamo fare uscire fuori comunque lo vedremo questo qua durante la recensione ma sembra veramente una figatissimi simissima allora vediamo lui che è bellissimo ragazzi ve lo dico già è fatto veramente bellissimo questi qua sono le parti non lo riesco non riesco a capire cosa servono dovrò vedere dopo però possiamo partire nel faccio allora vediamo subito l'oggettistica se riesco a tirarla fuori che qua è incastrata l'oggettistica allora qua date come sono carini fatti veramente bene parte dietro questo qua è uno andiamo a vedere l'altro sto usando l'elica dello spirit che adesso spaccherò faccio prima levarla così andiamo a vedere l'altro gli altri quattro vedete sono calamitati anche questa penso che sia calamitata perché si andrà attaccare poi sopra vediamo se infatti ad attaccare poi sopra il doraemon penso questa qua penso che all'interno abbia una calamita anche quest'altra perché vedete rimane attaccata ma lo vedremo dopo andiamo a vedere proprio il doraemon in sé mamma mia quanto pesa ragazzi di tutte le babali non riesco neanche a sfilarlo dal box qualcosa orca boia che bestia ma mai immaginavo una cosa così che bello 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 guardate non c'entra assolutamente niente aspettate per farvi capire di levo la porta da quello della versione spirit guardate che differenza non c'entra assolutamente niente con l'altro adesso gli andremo a mettere anche se i baffetti così erano forse più carini i baffetti così dello spirit vediamo allora vediamo qua muovendo ragazzi fate muovendo il braccio andiamo a cambiare le espressioni ce ne sono un botto guardate e ma se io voglio fare quello a fianco è difficile non è facile e random e random e random schiaccio cosa uscirà oggi questa tipo una lotteria mi esce sempre quella a no ha cambiato questa è carinissimo comunque ragazzi la coda al marchi ingegno per muovere vedete come pensate tutto incasinatissimo non riesco quasi a capire vedete qua c'è una rotella per muovere poi quello che tira fuori dal vedete dal tascone qua si va ad abbassare vedete e si vanno a inserire qua dentro gli oggetti che poi sparerà fuori da lì comunque spettacolare tutto india cast prima di vederlo poi nel dettaglio lo andiamo anche a pesare quali si va applicare l'elicotterino l'elica vediamo e adesso dovrebbe girare vediamo è anche l'elica muovendo il braccio carinissimo ragazzi comunque guardate che dettagli e tutto india cast in metallo vedete fatto veramente veramente bene non me l'aspettavo questo qua che cos'è a questo per mamma mia che devo leggere libretto di istruzione pure io ragazzi che qua si capisce niente questo qua acqua ributta fuori non vedete così tira fuori forse le cose dalla tasca adesso proviamo a inserirli intanto qua dentro gli oggetti e continuiamo dopo che gli ho inserito gli oggetti qua dentro e capisco esattamente il principio di funzionamento ho studiato un attimino allora qua muove l'elica e gli occhi questo l'abbiamo visto vedete questo qua l'avrà già visto prima e adesso vi faccio vedere che ho capito il principio di funzionamento di questa geisha allora cosa cos'è questa geisha è calamitato guardate allora si vanno a posare all'interno tutti i suoi oggetti guardate giustamente nel lato corretto vedete guardate adesso vi faccio vedere una cosa stanno esattamente così tutto l'ambaradam questo e gli oggetti sono tutti calamitati poi cosa succede si va a inserire qua dentro adesso uno è già partito fatto già il danno porco cane uno è già partito allora aspettate che rifaccio tutto dall'inizio vedete bello è questo proprio no ok vedete questo va dentro si chiude e l'abbiamo chiuso cosa succede adesso erdo raimon vuol tirare fuori dal tascone qualche suo oggetto spostiamo qua questa levetta che si richiude schiacciandogli la coda avete visto quindi così abbassiamo gli diamo la possibilità di prendere gli oggetti così lo chiudiamo quindi noi cosa fa diciamo dovremo tira fuori che ne so un oggetto guardate qua e guardate che cavolo si sono inventati guardate di rimane direttamente in mano guardate tac ok mettiamoli la sua elica dovremo un altro oggetto guardate qua ma incredibile fate in modo che si rimane lo va a pescare nella pancia guardate e gli rimane direttamente in mano guardate qua incredibile stupendo non so come è fatto a passare in sordina questo doraemon che secondo me è bellissimo è veramente bellissimo tutto in cast poi qua gli andiamo a richiudere come abbiamo visto il tutto è bello 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 allora pesiamo lo facciamo un rapporto con quello anche del della linea robo spirit vediamo amici la differenza anche di peso tra i due prodotti da questa linea shogo king quindi tutte in die cast in metallo nella linea robo spirit tutte in plastica in pvc allora quello in die cast della linea shogo king siamo quasi a mezzo chilo 426 invece la linea robo spirit in plastica siamo 80 grammi quindi si parla di due prodotti completamente diversi ovviamente con fascia di prezzo completamente diversa veramente veramente carino questo doraemon l'unica cosa che devo dire la verità che mi piaceva un pelino di più su quello della linea robo spirit erano i baffi così i baffi che spuntavano così invece la sono stampati ma per tutto il resto non ha niente a che vedere questa è la mia opinione con la versione robo spirit sono due prodotti completamente infatti diversi veramente carinissimo poi nel dettaglio prima non vi ho fatto vedere una cosa che mi sono accorto dopo vedete gli oggetti come vi ho fatto vedere che tira fuori dal tascone ma per esempio per l'angioletto come in questo caso la macchina fotografica guardate qua questi oggetti qua per esempio hanno un adattatore vedete vediamo se riesco porco cane hanno un adattatore cioè noi andiamo a inserire la parte dentro il suo adattatore fatto per ogni modello e poi combacia vedete dopo aver messo l'adattatore in questa rullo che gira che poi ci permette di tirare su praticamente tramite quel sistema che abbiamo visto prima gli oggetti dal panzone di doraemon dal tascolone era sarebbe stato più bello se però se si abbassava il tascone tool e tiravi fuori proprio dal tascone però era chiedere troppo allora 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 guardate questa è l'altra macchina fotografica vedete si va a incastrare così c'è il suo adattatore che poi ci permette praticamente di tirarla fuori da questo aggeggio qua vedete come se riusciamo a metterlo in movimento avevo sbagliato logicamente il verso vedete e quindi siamo andati a mettere all'interno anche quella lì perché qua è calamitata una calamità potentissima ragazzi devo dire la verità veramente forte come calamita e quindi lui dal tascone tira fuori proprio tutti gli oggetti che abbiamo visto in descrizione vedete quindi gli possiamo andare applicare qualsiasi cosa fatto veramente bene è bello il sistema qua che ruota la lelica sopra che cambia cambiano gli occhi non me davo pensavo un prodotto di qualità più bassa invece promosso veramente fatto veramente bene un altro livello come ho già detto rispetto a robo spirit da andiamo a concludere anche questa recensione amici giunge al termine anche la recensione di questo doraemon in versione shogo king veramente carino macchinoso bello tutto con tutte queste cose qua carinissime che possiamo fare come abbiamo visto in recensione che dire come dico sempre se mi è piaciuto il video mi raccomando like al video pollice alzato ma soprattutto iscrivetevi al canale perché vedi doraemon è felice se vi iscrivete il canale vi regala un angioletto però se non vi iscrivete al canale lui non arriva non arriva non arriva eccolo qua lui si arrabbia cavolo iscrivetevi al canale vedete quindi se non vogliamo vederlo così arrabbiato mi raccomando iscrivetevi al canale ciao ciao da carletta la prossima recensione